bal di giovane è arrivata l'eliminazione del napoli in realtà forse un po un po ce l'aspettavamo no sapendo un po la situazione del napoli il risultato d'andata le assenze però diamine però diamine si era anche messa bene quindi quella flessione dopo il gol che diamine che diamine lì che diamine poi anche vero che forse più di così il napoli magari non poteva neanche mette in campo però cazzarola cazzarola perché non si era messa male sul gol tu dopo tre minuti ti trovi ti trovi lì ti trovi lì quasi quasi ad azzerare lo svantaggio perché se realizzi un altro gol sei patta la metti patta e lo so quel sei che fa tutta la differenza del mondo e ne parliamo è come se ne parliamo prima però vi invito a scaricare l'app one football per rimanere aggiornati h24 su quelle su quelle che sono le novità legate al mondo del calcio l'app personalizzabile gratuito quindi link in descrizione se vi va scaricatela come ho detto prima il napoli era rimaneggiato le assenze ormai ormai sappiamo che sono tante sono note però cazzo il napoli era partito anche bene atteggiamento giusto perché recupera subito una palla aggressivi e zielischi che mette in campo quelle che sono le sue qualità che ragazzo mio zielischi ha una qualicità ah sì che ho detto una qualità destra sinistra e pericolosissimo e si era messa bene si era messa bene lì lì il napoli ha abbassato subito la guardia io non lo so sicuramente anche l'aspetto tattico andare sul classico sulla classica difesa 4 nel secondo tempo è stata è stata una musica leggermente leggermente diversa il gol subito il gol subito troppo semplice troppo semplice il giocatore che è andato al cross non infastidito il giocatore che ha segnato completamente libero libero di staccare libero di indirizzarla completamente libero ed è un peccato ed è assolutamente un peccato poi il napoli il napoli onestamente ci ha provato con le armi che aveva e ripeto le armi che aveva non erano a mio modo di vedere stasera sufficienti che vogliamo che vogliamo che vogliamo che vogliamo aggiungere note positive se vogliamo l'ingresso di gulam mi è piaciuto questo ragazzo che sappiamo bene sfortunatissimo una carriera sfortunata la sua e io gli auguro sempre meglio questo qua però però ragazzi è un peccato un peccato perché poi alla fine anche nel secondo tempo o comunque nel primo la traversa di insigne poi nel finale una paratona sullo stesso gulam un po prima ruiz se la trova sul piede debole poi non è che si sia giocato tantissimo tra ammunizioni risse infortuni ne sono usciti tre per infortuni si è giocato risicatamente e ribadisco dopo dopo il napoli non poteva far più di quello per le armi ripeto e voglio concludere non voglio non voglio risultare ridondante però il napoli più di così dopo non poteva farlo ma nel momento in cui tu la partita tu la partita la sblocchi dopo tre minuti lì lì devi lì devi dare l'anima lì lì non ti devi abbassare non ti devi di nuovo rifocilare non devi concedere un gol così banale e lì onestamente è finita è finita anche un po la partita è finita anche un po la partita lì perché poi servivano altri altri tre gol al napoli uno l'ha realizzata ma servivano altri tre lì si sono chiusi i conti peccato veramente veramente peccato ma ma niente il napoli oggi il napoli oggi deve trovare innanzitutto un'identità perché tre difesa tre difesa quattro ma sarei anche ipocrita se 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 non menzionassimo ancora una volta i giocatori perché oggi tu ti presenti con questo tre quattro uno due ma metti due attaccanti che non sono due punte ma perché perché non ce ne non le hai non hai così meno non hai petagna forse stai recuperando mertensi che stasera aveva solo 20 minuti quindi deve ritrovare sicuramente un'identità e quindi magari un modo un sistema un assetto che che funziona però per farlo deve trovare anche delle anche i giocatori ecco le due cose sono connesse sono collegate e speriamo bene speriamo speriamo bene ma napoli questo momento dopo l'uscita non deve non deve assolutamente sprofondare ma di testa e psicologicamente e non è affatto semplice e non è affatto semplice va bene baldi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate like se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio